eccoci qua dopo penso due tre quattro anni intorno al salotto genomics in una serata storica in cui l'inter batte il porto perché ricordiamo che ci sono squadre che contro il porto escono e mentre ci sono squadre che contro il porto vanno avanti partita storica difeso l'uno zero dell'andata di di lukaku tutti scarsi però siamo passati noi si vede che c'è una differenza abissale fra noi e il resto delle big d'europa ma intanto il porto dovevamo battere che era una squadra al nostro livello abbiamo battuta si avanti e vedete adesso sono in pigiama una delle poche volte in cui possiamo andare a dormire felici quindi ci godiamo alla vittoria preparatevi ad un prossimo video più tecnico tattico no screzzavo ma intanto siamo tornati e un po alla volta torneremo forti e andremo a vincere la semplice league magari non quest'anno però magari tra cinque e sei dieci anni se ne si farà ciao a tutti e ricorda mi raccomando iscrivetevi al canale